Vai! Sono come me, ma si sentono meglio. Sono un donno a noi, mezzo a noi, molti casi siamo noi. Fa promessa senza mantenermi mai, sia da un percalcolo. Il fine è solo l'utile, messo ogni impossibile. La posto è troppo e massima, l'impierative bici. Purtroppo il virus è come nessun altro, chi lo nega adesso? Mettiamolo ne al bando, niente scopo, ne ho rispetto per chi sta soffrendo. Perché la vita ha sempre il suo valore, adesso che tu lo stai negando. Sono tanti, arroganti, coi più deboli, serpini, coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici. Guardali e scendono in piazza, vestendo anche di nero. Io non li stimo e fanno sgarbi, e negano se stessi come i morti. Sicuro non usciremo fuori e sarei più forti. Negano, smarrano, sono cani sciolte. Sono un donno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono un donno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Pietro, complimenti.